Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti su questo nuovo video Questo è il nostro secondo canale, io sono Carita Dolce e lei è la mia sorella Siamo qua per farvi vedere tutti i nostri acquisti, la nostra spesa al discount MD MD, MD Qualche giorno fa abbiamo caricato il video vlog in questo suo mercato proprio in diretta Abbiamo fatto vedere tutti gli acquisti e tutte le cose Quindi andatelo a vedere, se volete sapere le cose che non vanno bene Soprattutto che non vanno bene, tante cose che non andavano bene Poi ci siamo fatti tante tante risate, comunque vi lasciamo il link, le box informazioni Mi piace tanto questo supermercato perché si sparmiano soldi Super super economico Noi siamo un po' pidocchiose, quindi ci piace che paghiamo Vabbè, ma comunque alle ragazze piace proprio sapere fare la spesa con cose buone ma che costano poco Esatto, esattamente Iniziamo subito ragazze, mi raccomando lasciateci tanti like se vi piacciono questi video Per darvi tanti spunti su un'alimentazione sana Noi facciamo un'alimentazione molto sana, genuina, per stare in forma Ci piace mangiare, però ci piace anche nutrirci bene e stare in forma Quindi vi diamo tanti spunti di prodotti sani, abbastanza insomma naturali, dietetici tra virgolette E diciamo, iniziamo subito, che mi perde sempre in chiacchiere Ok, prima cosa questo lo compriamo sempre, il riso integrale Sì ci piace tanto Questo poi è bio, della marca bio, quindi integrale e biologico, che viene da discount e costa pochissimo Questa poco, ed è praticamente certificato, tutto biologico Il riso integrale ci piace tanto perché ha un basso indice glicemico Quindi ha molte fibre, fa andare in bagno e diciamo tra virgolette è dietetico come prodotto E poi mi piace tanto, soprattutto l'insalata di riso in questo periodo Non vedo l'ora di mangiarlo, però l'ho conservato per farvelo vedere Perché rispetto al Total Zero, che è molto famoso, sapete anche noi ve ne parliamo Questo qua invece è un po' sfigato, nessuno lo conosce, Batikas, yogurt by comacro Ma questo è proprio prodotto in Grecia Prodotto in Grecia, però costa pochissimo ed è molto buono Cioè, con i valori nutrizionali stiamo là, è molto simile, quindi zero grassi, abbastanza proteine Però è molto molto buono Sembra tipo una mousse Sì, io lo trovo, fatemi sapere, io lo trovo anche più buono del Total Zero Quindi secondo me dobbiamo un po' rivalutarlo, soprattutto da discount, però è buono Grissini integrali, come sapete a noi piacciono molto le cose integrali appunto perché sono molto leggere, dietetiche Mantengono la pancia piatta, poi hanno un gusto secondo me più intenso Sì è vero, senti proprio il sapore del grissino Noi questi grissini li prendiamo sempre perché hanno un alto contenuto di fibre, un basso contenuto di grassi E cosa importante sono con farina integrale Senza olio di palma Senza olio di palma Tutti i prodotti che vi facciamo vedere sono senza olio di palma ma non solo Che comunque ci sono tanti ingredienti da evitare, tipo per esempio gli additivi, tanti conservanti, sostanze dannose Quindi questi qua sono molto buoni, ve li straconsigliamo d'estate, tipo per esempio con un po' di prosciutto Abbiamo pensato alla stessa cosa Eppure magari nel formaggio spalmato Sì, i brissini col prosciutto sono troppo Poi abbiamo comprato anche la pasta integrale Sì è buona Questa è Vivo o Medio, sempre la marca Bio che si trova al discount Sono penne integrali fatte solo con farina di semola integrale Ve le consigliamo tantissimo Anche mia amanda queste le comprate sempre Queste sono buone, non sono di cartone Che spesso la pasta integrale è brutta Invece questa è buona proprio E ci c'è in vari formati E noi abbiamo anche preso le penne Comunque ci sono anche ricetti, c'è scritto dietro, anche i fusilli I fusilli, i spaghetti, le presi Questi qua però non sono Vivo o Medio ma si chiamano Bio Come il riso Sì al discount ci sono queste due marche Questa qua Bio spaghetti integrali biologici 100% grano italiano e sono integrali Questi prodotti sono Bio e sono anche molto buoni ed economici Cosa importante Perché per mangiare bene non c'è bisogno di domani spendere tantissimo Anche al supermercato si trova Si trovate Questi sono buonissimi spaghetti ragazzi Provateli, sono buoni Poi per la pasta abbiamo comprato la Pumarola Eh sì, sulle spaghetti Passata di pomodoro biologica Bio Sempre marca Bio Economica buona E' una linea proprio Bio di prodotti che c'è proprio al discount e medive Ve la straconsigliate Poi abbiamo preso anche le nostre amate gallette di mais Ragazze Queste sono fantastiche Perché sono divise in pacchetti monouso Cioè adesso Sono 4-5 Monouso? No! Che monouso? Sono 5-6 gallettine All'interno di questa plastina Adesso le apro e le faccio vedere Le potete usare come scultini Sono tipo monoporzioni Mi piacciono stati questo Perché le gallette di mais Come le apri subito diventano stanti e butto Invece con questo sistema Praticamente si mantengono Ad esempio qua c'è una porzione Tipo 7 gallette Che tipo potete mandare a pranzo A cena Lo aprite Mangiate le vostre gallette E le altre Sono 4 pacchetti Le chiudete le catture Non si fanno insomma Siriticce E sono anche queste qua Bio Senza sale Senza sale Senza non di parma Senza nulla Di mais Io le adoro Sono buonissime ragazzi Sono super croccanti Croccanti Eh sì Anche faccio notare Queste qua fare tipo di panini Col prosciutto crudo O la bresaola Provatele Perché Pure col formaggio Col salato del prosciutto E della bresaola Sembrano tipo tipo Pocono Questo troppo buone Straconsigliate ad esempio Da alternare al pane Perché magari il pane Contiene lievito Può gonfiare No E invece queste qua Sono molto dietetiche Quindi ve le straconsiglio Infine abbiamo preso Una tisana Ovviamente E se ne potevamo mancare La tisana Questa è Vivo medio relax Tisana a base di pasticlora Camomilla Melisse Biancospino Questa è buona Proprio perché Concile il sonno Ed è fatto Tutte erbe naturali Ci riesce questa digestiva E' più proprio Per sgonfiare la pancia Per digerire Dopo pranzo E dopo cena Infatti Con finocchio Rosmarino Che sono molto drenanti Ve le straconsigliamo Costano pochissimo Neanche un euro Sì sì Pochissimo E per drenare Sapete che Sono una delle cose E più importanti Bere tante tisane Per sgonfiare la pancia Quindi ragazzi Questo è tutto Noi speriamo che i nostri acquisti Vi siano piaciuti Vi diamo appuntamento In un prossimo video Vlog Fateci sapere In quale suo mercato Vorreste che andassimo Fateci sapere voi Se mangiate queste cose Quali vi piacciono Quali no Se avete trovato Qualc'altra cosa Di buono Di interessante Noi siamo pronti Per voi Ad andare in missione E comprare tante cose buone E vi do appuntamento Con il video Dei cosmetici Perché ho comprato Anche tanti prodotti Cosmetici Naturali Con buon inci Economici Sul mio primo canale Lo caricherò Nei prossimi giorni Vi mandiamo un bacio grande Mua Ciao Ciao